Si sta avvicinando un altro momento importante per l'emittenza privata Veneta. Dal 24 al 28 febbraio, in provincia di Belluno, verranno spenti tutti i canali per essere riattivati su un'altra frequenza. Anche Telebelluno è coinvolta, fa parte delle 15 emittenti che potranno continuare a trasmettere. Nulla cambia, il nostro segnale arriverà in tutte le case, forse con qualche difficoltà, ma solamente di pochi giorni. Il nostro servizio prosegue anche sulla frequenza di secondo livello, che riguarda tutta la provincia di Belluno. Nel giro di una settimana noi speriamo di poter riattivare tutti i nostri ponti, sono una cinquantina, un lavoro impegnativo, anche perché come vedete la stagione è ancora inclemente e molti tecnici devono salire in cima alle montagne per fare questo tipo di operazione. Secondo le disposizioni ministeriali e in base ad una graduatoria, Telebelluno passa dal canale 10 al canale 75, Teledolomiti passa dal canale 190 al canale 81. Sostanzialmente non cambia nulla, se non il fastidio di dover risintonizzare il proprio televisore. Per continuare a ricevere i nostri programmi basterà quindi solamente risintonizzare.